Vlad non spara, ma recensisce il cibo. La sciocca-cola. La sciocca-cola è una scioccolata tedesca, recentemente sono stato a Berlino, che si trova anche su siti come Varusteleka. È una scioccolata assai particolare, circolano parecchie leggende. Infatti nasce brevettata nel 1935 e messa in produzione di massa nel 1936, in un paese che doveva durare mille anni e doveva nutrire i propri liberatori dell'Europa. Infatti questo, che è una scioccolata arricchita di cola, che è un particolare frutto, in realtà la stessa cola di Coca-Cola, è della caffeina. Infatti sciocca-cola. Cioccolato, caffeina, cola. Ha un sapore molto particolare grazie alla cola, perché questo misto diffondente con questo gusto Coca-Coloso appunto è una bella dosi di caffeina. Ed era razione standard. Queste in realtà scatolette di latta che non sono praticamente rimaste cambiate dagli anni 30, queste latte. Erano reazioni standard, per esempio, della Luftwaffe, per i piloti, per stare svegli lunghissime ore, caffeina, come anche della Kriegsmarine tedesca. Venne popolarizzata un po' dagli alleati, soprattutto negli ultimi anni della guerra, nel 1944 e 1945, quando gli alleati si imbattevano in questa sciocca-cola, un po' perché la trovavano in quello che rimaneva nei magazzini, un po' perché i soldati tedeschi ce l'avevano spesso e volentieri addosso. Non divenne mai poi molto famosa come un prodotto commerciale, ma la produzione continuerà e molti eserciti continueranno in realtà a usarla. Infatti è popolare sia in Germania che banalmente in Finlandia. Per questo motivo infatti Varusteleka, negozio finlandese, la va a vendere. Vi assicuro che è buonissima. Tutti quelli che l'hanno provata ne esaltano il sapore. Infatti questo cioccolato fondente, con questa evidente nota di caffè, è di questa cola che... Non so che sapore la cola, mi viene in mente la Coca-Cola appunto. Non mi da sapere questo sapore dolciastro, non è un dolce dolciastro della Coca-Cola. Appunto. Come vedete sto fremendo perché non ho mangiato tantissimo oggi, questa è ben piena di caffeina. Se vi interessa acquistarla, buona fortuna, perché non è facilmente trovabile. Ciò che si trova in alcuni supermercati in Germania, infatti li l'ho comprata, anche su Varusteleka, vi lascio il link qua sotto, e ogni tanto appare su Amazon. Ora che carico il video, controllo se c'è su Amazon, se c'è, vi lascio il link qua sotto. Ci vediamo alla prossima con un altro video, probabilmente stracchino, su Vlad non spara.